Alcune cose sono importanti negli sport in generale per vincere, mai esultare troppo presto o prendere in giro l'avversario e rimanere sempre concentrati fino alla fine. Sottovalutare qualcuno vuol dire sconfitta, ma alcuni atleti non lo avevano capito e il karma li ha sistemati come si deve. Che ne dite quindi di vedere alcuni epici momenti a volte molto divertenti dove gli atleti di vari sport si sono ritrovati con una bella torta in faccia? Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova top dove capiremo che non bisogna mai pensare di aver vinto finché non è davvero finita. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati partiamo! Numero 10 Nel basket ogni secondo è importante, ancora più che nel calcio l'azione finale può cambiare alla sorte di una partita, come in questo caso. Mancavano pochi secondi e la squadra con la maglietta bianca era in vantaggio di 3 punti. A soli 3.8 secondi dalla fine uno dei giocatori aveva deciso di lanciare la palla in aria, con non curanza, come se ormai tutto fosse concluso. E invece un giocatore della squadra avversaria ha recuperato il pallone e tirato a canestro. Forse a caso, ma comunque sia era un tiro da 3 che gli ha permesso di pareggiare. Come dicevo all'inizio mai e poi mai prendersela comoda solo perché si è verso la fine e fare gli arroganti. Numero 9 L'MMA è veramente uno sport tosto, insomma la gente si picchia quindi diciamo che questo genere di sport fa letteralmente male se non si è preparati. È un motivo in più per stare attenti e tenere gli occhi aperti quindi, per non cadere rumorosamente come in questo caso, dove un combattente ha deciso di prendersi gioco dell'avversario inscenando un ballo come se non ci fosse un domani. È come se ormai avesse vinto e l'incontro fosse suo. Peccato però che il karma sotto forma di calcio gli abbia dato una bella lezione. Numero 8 Non pensiate però accada solo negli incontri famosi di MMA di vedere degli arroganti che cadono giù. Anche negli amatoriali meno famosi a volte ci sono gli immortali della situazione che si scoprono e non stanno nemmeno in guardia. Come in questo caso. Una cosa non hanno insegnato al signore afroamericano, cioè che i pugni sul mento possono buttare giù anche il più grosso. Numero 7 Nel calcio ci sono esultanze che è meglio evitare perché ritenute troppo da boh cazzaro credo. Per questo motivo si possono dare i cartellini senza problemi. Altre nonostante non siano contro il regolamento è meglio evitarle per non fare figuracce in seguito. Come in questo caso dove Leivin Kurzawa aveva segnato un bellissimo gol. Piuttosto che rimanere un attimino umile ha preso in giro i giocatori della squadra avversaria con la sua strana esultanza. Ma poco dopo gli avversari hanno segnato un gol a loro volta, prendendolo in giro tutti insieme con il suo metodo. Numero 6 Tempo fa seguivo moltissimo la MotoGP. La domenica per me era dedicata ai panini con la Nutella e Valentino Rossi. Ero un fan sfegatato come pochi ma questa è un'altra storia. Comunque mi ricordo di quella volta nel 2012 in cui Riccardo Russo fece una figuraccia senza uguali. L'uomo aveva rallentato e cominciato a esultare colpendo l'aria come se fosse la sua peggiore nemica. Insomma la solita routine del vincitore. C'era solo un piccolo problema. Mancava ancora un giro alla fine e questo l'ha capito tardi. Dall'essere primo è passato alla quattordicesima posizione. Cavolo avesse perso uno o due posizioni non sarebbe stato un grosso problema dai. Ma addirittura arrivare in quattordicesima. Beh spero abbia imparato la lezione da allora. Numero 5 Forse in pochi lo sanno ma ci sono anche i corridori di go-kart. Ehi sono bolidi come altri e sono davvero tosti da comandare. Io ci ho provato una volta. Da allora ho avuto gli incubi. Comunque in un campionato nel 2010 il nostro amico Daniel Conrad pensava di avere la vittoria in mano. Eppure qualcosa era andato storto. Tutto questo è successo perché aveva mollato il volante. Mai e poi mai mollare il volante durante una corsa. Penso sia la prima regola da rispettare o no? Numero 4 Nella palla a volo a volte le azioni sono così veloci che è difficile capire chi abbia in mano il punto. In questo caso per esempio la squadra rossa aveva bloccato una schiacciata. Dopodiché un giocatore giustamente pensava che ormai fosse punto ma mai dire mai. Con un'incredibile rimonta la squadra avversaria è riuscita a ribaltare la situazione. A causa di una sola persona i compagni di squadra hanno dovuto fare i salti mortali per riuscire a recuperare ma non c'è stato verso. Numero 3 In un college in Oregon un ragazzo era ritenuto il migliore nella corsa finché non ha mostrato la sua arroganza che gli è costata la vittoria. Numero 2 Anche nel rugby possono accadere cose fuori dal comune. Il ragazzo in rosso aveva provato ad afferrare l'avversario che stava per fare punto e il pubblico stesso aveva riso della situazione perché non ci era riuscito ma una cosa inaspettata è successa alla fine. E niente anche se il mondo è contro di voi non mollate mai. Numero 1 Alle olimpiadi di Rio tempo fa è accaduta una delle cose peggiori che potesse succedere a un atleta. Cioè esultare troppo presto e pensare di aver vinto davanti a milioni e milioni di spettatori. Finché sono pochi quelli a guardare non ci sono problemi e la cosa si dimentica ma quando il pubblico è praticamente mezzo pianeta beh la storia andrà avanti per millenni. Il combattente Bin di origine cinese ha alzato le mani e lanciato un piccolo urlo prima ancora che i giudici avessero preso una decisione, decidendo così da solo la sua vittoria. Come fosse una cosa certa e invece è stato il suo avversario Peter Mungai Warui ad aggiudicarsi l'incontro. Pensate che era così sorpreso da riuscire a malapena a capire la situazione in cui era. Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.